Domani l'Aquila Calcio ricapitalizzerà davanti al notaio. Questa è la decisione presa nel corso della riunione di ieri tra i soci. Si parla di circa 400.000 euro per finire la stagione e cominciare a programmare già la prossima. Non era presente Davide Iannini, che dovrebbe diventare il nuovo socio. Domani, ad ogni modo, dinanzi al notaio, si capirà di più. 400.000 euro che si aggiungono ai 150.000 già deliberati. Un passaggio fondamentale per riprogrammare e ridefinire i nuovi assetti societari. I tifosi chiedono però a gran voce delle novità dal punto di vista tecnico, che ad oggi non ci sono, mentre molte squadre, ad esempio, hanno già scelto il nome del prossimo allenatore. Evidentemente la società sta sondando il terreno, prima di formare la squadra, anche per valutare un possibile ripescaggio, ma su questo fronte c'è da dire che le speranze sono ridotte davvero al lumicino. Per ora due le incognite più grandi, la scelta del nuovo allenatore e la posizione del DS Alessandro Battisti. Ancora non chiarita e con due anni ancora di contratto. Si è parlato di Meco Monaco sulla panchina aquilana, ma per ora si tratta solo di rumors, di voci insomma non confermate dalla società. Intanto perché qui riguarda lo stadio di Acquasanta, ieri mattina è arrivata la firma del contratto per l'installazione delle telecamere. La ditta che ha vinto l'appalto, la SAIS SRL, oggi ha iniziato i lavori e dentro 28 giorni dovrà consegnarli al comune.